VMware da sempre abilita la trasformazione digitale delle organizzazioni attraverso una visione che abbraccia la capacità di realizzare una user experience per gli utenti che sia la migliore possibile attraverso la digitalizzazione dei processi in mobilità, la capacità per le organizzazioni per cogliere le opportunità di essere agili e veloci quindi con le piattaforme di sviluppo agili e la parte ad esempio di containerizzazione quindi le nuove tecnologie per lo sviluppo per il DevOps e poi cosa fondamentale in questo mondo digitale dove come dire la cyber security diventa oggi un problema sempre più importante attraverso la virtualizzazione della rete della sicurezza creiamo realizziamo un nuovo modo di pensare alla cyber security quindi attraverso la virtualizzazione di tutte quelle funzioni che tipicamente oggi sono più che altro in hardware realizziamo la possibilità di un approccio cosiddetto zero trust alla sicurezza dell'informazione